Buona botte! Buona botte! Sì, 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 buonanotte! Buona botte! Minion! Ci sono tantissimi altri cattivi nel mondo! E io voglio essere un super cattivo! Pensi davvero che un mostriciattolo possa essere un cattivo? Sono alquanto cattivissimo! Bravo! Va bene, va bene! Non sono mini! Basta chiamarmi così! All'attacco! Mini capo! I Minion mi salveranno! Mi piace apprendervela con i più piccoli, eh? Io sono maestro di Kung Fu! Ti c'è no Kung Fu? Por smucci smucci? Vado! Ve lo insegnerò! Ora voi! Che ne dite di un bel combattimento? Ah, Kevin, Kevin, Kevin... Ehm... 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 Mini capo? Ehm... 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 Minio Nahuniti! Aaaaaah! Mini capo! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info